Avrei voluto i pensieri di uno scrittore o di musicista per sentire cosa si prova a volare sopra le righe. Sono codici con una grafica cosmica e cromatica. Sono come il sole. Scaldano la penna e nascono per planare nelle emozioni, toccando con delicatezza il pianto sorriso, dal dolore alla gioia. Si trasformano in parole, generando altre parole. Un dizionario indelebile. Dei loro pensieri mi hanno lasciato l'evoluzione di una nota e una parola sol aria, presenza visiva che respiro profondamente con gli occhi, il naso e la bocca. Assorbono la parola vita baciata in terra soleggiata, orologio dell'esistenza, che passa tra il primo vagito e l'ultimo respiro.